Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming. Oggi sono uscite le prime nuove sfide di Mida. Tra le sfide c'è quella che richiede di trovare almeno 5 monete esperienza. Questa è la mappa aggiornata allo stato attuale con tutte le monete che potete recuperare in giro per la mappa. Alcune sicuramente le avrete già prese nel corso del tempo, altre ancora no. Quindi basatevi su questa mappa per trovare quelle 5 monete che vi servono per completare la sfida di Mida disponibile da oggi. Se questo video vi è tornato utile cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.